melanzane spaccatelle in padella ma quanto sono buone fatele con me iniziamo per prima cosa metto l'olio in padella poi metto l'aglio ed una volta dorato spengo momentaneamente la fiamma e quando l'olio si sarà un po' intiepidito metto la passata di pomodoro dopodiché riaccendo regolo di sale e faccio cuocere per 10 12 minuti senza coprire ci serve un sughetto denso nel frattempo taglio le melanzane a fette lunghe spesse circa un centimetro poi le incido di lungo le incido in diagonale metto l'olio in una padella o in un tegame capiente aggiungo le melanzane e le faccio cuocere circa 5 minuti per lato poi metto il sale su ognuna schiaccio un po' ogni melanzana con il cucchiaio aggiungo il sughetto su ognuna la mozzarella tagliata a julienne poi copro e faccio cuocere per 4-5 minuti ed eccole qui ci metto qualche foglia di basilico e poi le assaggio con voi che bontà mamma mia dalle mie parti si chiamano alici pancia e pancia con la provola sono squisite fatele con me iniziamo per prima cosa stacco la testa dagli alici premendo pollice ed indice tiro via l'interiora e schiacciando con il pollice apro libero l'alice tiro via la spina centrale se presente rimuovo qualche residuo di sangue sciacquo bene e metto in uno scolapasta una volta pulite tutte le alici metto pepe buccia di limone nelle uova le sbatto poi prendo un alice metto sopra un pezzetto di scamorza copro con un'altra alice e schiaccio poi passo nella farina bene bene nelle uova passo nel pangrattato e schiaccio bene ed una volta fatte tutte le frigo in abbondante olio di semi di arachidi molto caldo le faccio cuocere per circa un minuto e mezzo girandole a metà cottura e le tolgo quando saranno belle dorate in piatto e guardate qui mamma mia mortadella in carrozza che ne parliamo a fare fatela con me iniziamo per prima cosa taglio il caciocavallo a fettine poi taglio la mortadella a fette abbastanza spesse dispongo su una delle fette un po di caciocavallo copro con un'altra fetta di mortadella ed una volta fatte tutte passo nella farina anche sui bordi poi nelle uova in cui ho messo un pizzico di sale e pepe faccio sgocciolare e poi passo nel pangrattato anche sui bordi una volta fatte tutte le frigo in olio di semi di arachidi per 4-5 minuti per lato finché saranno ben dorate poi le tolgo e le metto su carta assorbente ed eccole qui che spettacolo senza parole pesce spada alla piastra per prima cosa asciugo bene bene il pesce su entrambi i lati e sui bordi poi metto l'olio in un bicchiere il pepe nero il prezzemolo mescolo e tengo da parte ora accendo la fiamma sotto la piastra e quando sarà caldissima metto il pesce e lo faccio cuocere circa due minuti e mezzo per lato poi lo impiatto e metto il sale la salsina fatta in precedenza qualche goccia di limone ancora prezzemolo ed eccolo qua che delizia tenero e succoso buon appetito